... ... ... ... ... Lo splendore del vostro musico! Vediamo che cosa da dirci dalla nostra sopraia! Prego! Allora adesso vogliamo trasportare i momenti di vita comune i momenti di vita che vivete praticamente ogni giorno e cosa c'è di più quotidiana di un trauma? Chi di voi non ha assistito a delle cose buffe accadute proprio su un autobus? Penso che succeda ogni giorno, no? Guardate un po' di cose che è successo. Di nuovo abbiamo cambiato governo. Come volevate, come non è un po' di più, ma è un po' di più, ma è un po' di più. E' un po' di più, ma è un po' di più, ma è un po' di più. Basta, signore, non ho avuto troppo forte, tutta la roba fresca di immagualità. Signore, voi non avete capito proprio niente, vanno parlare pure politica, vanno parlare. Ma perché se stagliate per un ciccone che facevano? Non pagano le pallici. Ma non pagano le pallici. C'è se sa, mi siete anche fatti malati. Um, ma... E' un po' di più. 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 Sì, ma che state scegliere? Sì, ma che state scegliere? Comunque sali da Brodi perché Brodi farà cose nuove. Sale Brodi, sale, sale, sale Brodi! Grazie a tutti!